Doppio colpo per la banda del buco a Lucrezia di Cartoceto. Esperti, preparati, veloci ed organizzati hanno messo a segno due furti in poco tempo per un bottino complessivo di oltre 10.000 euro. La notte scorsa svaliggiate le slot machine del bar 603 ed il deposito delle sigarette della tabaccheria poco distante in via Circonvalazione Kennedy. In entrambi i locali i ladri si sono introdotti praticando un buco nella parete, passando per attività adiacenti, eludendo così anche le telecamere interne ed i sensori dell'allarme, essendo questi puntati verso l'interno dei locali. Nel caso delle slot machine del bar 603 sono passati dalla adiacente bocciofila, dove dopo un paio di tentativi vicini hanno praticato un generoso foro nella parete dell'ufficio, avendo capito che da lì sarebbero entrati nello stanzino dove si trovavano le slot. Le hanno così portate nella bocciofila ed hanno aperto indisturbati i cassetti dove finiscono i soldi e preso il contante, un bottino così di oltre 2.000 euro. Danni tanti, fortunatamente il bar non l'hanno toccato a parte il muro e le slot. Stessa metodica per il tabacchi. Una volta entrati nella palestra comunale, da una porta con maniglione antipanico, la stessa probabilmente da dove sono poi usciti, hanno praticato dei fori prova nella parete confinante col tabacchi per vedere dove sarebbero sbucati. E dopo tre tentativi ed una colonna in cemento armato, hanno fatto centro e dal buco praticato hanno asportato tutta la riserva delle sigarette, i gratta e i vinci e diversi pacchi di caramelle. Bottino totale vicino ai 10.000 euro. Ma in questo caso non si sono fatti scrupolo nemmeno di razziare e devastare la palestra. Dopo, visto che erano qui, hanno rovinato il distributore delle bevande, sono andati nel magazzino e ci hanno portato via abbigliamento, hanno rovistato negli uffici, hanno soltanto che ci hanno rotto tutte le porte, sia anche degli sgabuzzini sotto dove teniamo materiale. Hanno rotto tutto quanto, si sono feriti, secondo quanto hanno visto la scientifica, si sono anche feriti qui. Dalle prime ore del giorno sul posto i carabinieri di Saltara, che coordinati dal comandante della stazione Antonello Pannaccio, stanno vagliando tutte le ipotesi. Sicuramente, vista la metodica di azione dei malviventi, i colpi sono stati organizzati e eseguendo dei sopraluoghi e valutando gli spazi e le misure di sicurezza dei locali poi da svaligiare. Sicuramente anche la batteria che ha eseguito i furti è la stessa. Per le indagini si parte ora dalle tracce lasciate dai malviventi e si incrociano i dati con i colleghi della caserma di Fano. Grazie a tutti.